Ciao ragazzi, siamo qua a fare colazione e niente, adesso vi faccio un bel cafferino e adesso andiamo a farci due passi a Certaldo, questo bellissimo borgo e adesso andiamo a farci due passi a fare colazione e adesso andiamo a farci due passi a fare colazione Grazie a tutti! Grazie a tutti!